Eeeh what's up a tutti ciurma e benvenuti da giocherina in questa nuovissima reaction ebbene ragazzi eccoci qua di ritorno quest'oggi per guardare insieme un trailer che mi è stato segnalato dal mio amico Roby che ringrazio ovviamente per la segnalazione e si tratta di un videogame quest'oggi restiamo quindi in tema videoludico ragazzi ed è un trailer che è stato pubblicato sul canale playstation perlomeno quello youtube io non so adesso se questo gioco sarà multipiattaforma ma mi sembra di aver capito che si tratterà di un'esclusiva sony si chiama reanimal io adesso non so assolutamente niente trailer dura appena un minuto e venti e l'unica cosa che so è che è dai creatori di little nightmares quindi già questo rende il tutto un pochettino più interessante tra l'altro giusto per parlare di little nightmares ragazzi se non erro è comunque in corso di sviluppo anche appunto little nightmares 3 credo se non sbaglio fosse stato pubblicato anche qualcosa a riguardo un trailer o qualcosa del genere ovviamente ragazzi correggetemi se ho detto una castroneria però che dire sono un pochettino impaziente perché voglio effettivamente vedere e capire a grandi linee di cosa si tratta però essendo dei creatori di little nightmares ragazzi suppongo e immagino che magari si tratterà di qualcosa un pochettino più oscuro inquietante horror roba del genere quindi non perdiamo più tempo e andiamo a guardare questo trailer ok la musica già esatto vedete dei creatori di little nightmares e little nightmares 2 ok la musica già esatto vedete dei video No! Wake up! I thought you were dead. oh mio dio ok sarà un'esclusiva cioè ragazzi mi avete visto spalancare così tanto la bocca perché oh mio dio cioè wow sono un pochettino scossa perché non mi aspettavo una roba del genere a parte che ovviamente essendo i creatori di written enders ragazzi il gameplay quel poco veramente quel poco che si è visto è letteralmente identico al Little Nightmares perlomeno il gameplay comunque l'impostazione proprio di gioco quindi come è impostato il gioco è veramente uguale a Little Nightmares e questo ovviamente non è ragazzi un difetto nel senso è proprio un'osservazione su una cosa che ho notato ho visto due personaggi andare in giro insieme anche se in questo momento in barca ragazzi c'erano più personaggi presenti non so questo mi fa dedurre che il gioco sarà giocabile in coppia non so se sarà esclusivamente da giocare in coppia da un lato spero di no perché magari ovviamente ragazzi non tutti hanno un compagno di giochi su cui poter contare per poter giocare appunto giochi esclusivamente in cooperativa quindi da un lato spero con tutto il cuore che sarà giocabile anche in single player e ragazzi vi giuro sono rimasta a bocca aperta perché le atmosfere ovviamente così come l'impostazione di gioco sono praticamente identiche a quelle di Little Nightmares ma quello che ho notato ragazzi da questo trailer è che ci sono veramente tante tante creature terrificanti presenti in questo gioco probabilmente più di quelle che abbiamo visto fino ad ora nei due Little Nightmares mi ha dato questa impressione qui che ci siano più mostri che ci daranno la caccia perché il concetto più o meno è sempre quello fuggire fondamentalmente quindi non mi sembra di aver notato momenti in cui si possono accoppare i mostri diciamo così quindi il concetto di base è sempre quello fuggire dalle creature mostruose che ti perseguitano e che ti inseguono quindi già questo ragazzi come concetto di base a me personalmente terrorizza perché nei giochi horror solitamente la cosa che più mi spaventa è sapere che qualcosa mi sta inseguendo e tra l'altro non ho la possibilità di farci niente nel senso non posso reagire in alcun modo quindi l'unica cosa che ti viene in mente è devo fuggire devo scappare quindi credo che questa cosa non terrorizzi solo me è un elemento chiave importante ovviamente nei giochi horror e quello che ho visto in questo trailer ragazzi direi che è alquanto raccapricciante perché appunto come vi dicevo c'è una grande varietà di creature mostruose e quel po' che si è visto così di sfuggita rapidamente sembra essere veramente raccapricciante ragazzi terrificante e poi bisognerà ovviamente capire che ruolo ha questa pecora che si vede ragazzi all'inizio che è tutta storbia tutta che si muove così no in maniera raccapricciante e che a un certo momento del trailer ragazzi si vede addirittura diventa tipo gigante cioè è orrenda allo stesso tempo e vi ripeto ci sono tanti 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 momenti di suspense di terrore di paura e tutti mi sembra di aver notato con creature diverse questo punto per ricollegarci a quello che stavo dicendo poco fa quindi il tutto tutto questo rende questo trailer veramente avvincente e questo gioco particolarmente interessante ha acceso sicuramente il mio interesse qui c'è scritto wishlist non c'è scritta alcuna data di uscita ma sicuramente ragazzi lo terrò d'occhio perché a me Little Nightmare sono piaciuti lo sapete li ho portati qua sul canale sono stata contenta di giocarli perché li ho sempre considerati due piccole perle dell'horror che a modo loro si distinguono dal resto dei giochi horror ma nonostante questo nonostante appunto ragazzi suo stile di gioco Little Nightmares è sempre riuscito comunque a coinvolgere e a anche terrorizzare in qualche modo i videogiocatori io li ricordo veramente con grande entusiasmo con grande gioia quindi questo nuovo progetto mi intriga particolarmente anche perché suppongo non so se ci saranno proprio meccaniche di gioco un po' diverse se aggiungeranno qualcosa avranno aggiunto qualcosa perché nel secondo Little Nightmares se non sbaglio c'era la possibilità di in qualche modo accoppare le creature a differenza del primo però qua non c'è dato saperlo per lo meno per adesso se sarà stata inserita qualche meccanica un pochettino diversa ma questo poco importa ragazzi a me importa veramente poco perché mi interessa comunque tutto il resto atmosfera paura coinvolgimento e questo gioco mi sembra abbia tutte le potenzialità per avere le carte in regola da questo punto di vista molto interessante molto impaziente anche perché dal punto di vista narrativo sarà sicuramente appunto come Little Nightmares ragazzi quindi non ci sarà dato probabilmente capirci più di tanto dovremo in qualche modo trarre le nostre conclusioni a fine game questa cosa può piacere può non piacere vi dirò a me personalmente non fa impazzire il fatto che non ci sia spiegata la storia non ci sia spiegato il luogo non ci sia spiegato il perché delle varie cose ma me la faccio andar bene perché il gioco comunque te la fa andar bene ragazzi tra molte virgolette nel senso che poi ti godi l'esperienza di gioco a prescindere da tutto il resto quindi a prescindere dal fatto che la storia e le motivazioni non siano spiegate e magari trai tu qualche conclusione anche se appunto ragazzi i primi due Little Nightmares per me sono rimasti un pochettino un mistero da questo punto di vista quindi dal punto di vista narrativo però sono belli anche anche per quello diciamo così quindi suppongo che questo gioco farà la stessa cosa da questo punto di vista ma vi ripeto poco importa mi interessa l'esperienza che questo gioco sicuramente sicuramente sarà in grado di regalare quindi ragazzi come sempre fatemi sapere qua sotto nei commenti a voi cosa ne è parso di questo trailer se appunto vi siete fatti la vostra idea ragazzi se lo comprerete a lancio o meno e quali sono state le vostre impressioni questa reaction termina qui grazie a tutti un bacione e obdoscio a tutti ragazzi da giocherina ciao